E se ti dicessi 165.000 euro per un appartamento con entrata indipendente, trilocale, con giardino, garage e completamente ristrutturato, ci crederesti? Attraverso questa entrata indipendente accediamo subito nel giardino. E qui in questo giardino potrai organizzare tutte le feste che vorrai. Ad accoglierci questo caldo salone. Questa casa vi affascinerà per i dettagli. Il primo, questa meravigliosa finestra. Tutto perché è in rovere. Da qui inizia la zona notte, anticipata da una splendida cucina angolare. Per 165.000 euro ti proponiamo due matrimoniali grandi, la prima e la seconda. Questo bellissimo muro in pietra ti accompagna fino al bagno. E che bagno! Siamo a Roma Nord-Ovest, nel quartiere della Storta. Vi abbiamo mostrato un ampio trilocale completamente ristrutturato con una grande corte esterna. Giorgia, non ti dimenticare del garage, che è un garage versatile. Sei interessato? Scrivici in privato, oppure guarda il nostro sito.